fai durare. Oppure parlo di te, che hai paura anche solo di dormirci con un uomo, che sei terrorizzata, che una storia ti tolga l'aria, che non flerti con nessuno perché è il terrore che qualcuno si infiltri nella tua vita. Peggio, se ci rimani presa in mezzo, tu poi ci soffri come un cane. Sei stanica, sei sempre qualcuno con cui ti devi giustificare, che ti vuole cambiare o che devi cambiare tu per tenertelo stretto. E così, e così stai coltivando la solitudine dentro casa. Eppure te la racconti, te lo dici anche quando parli con le altre. Io sto bene così, sto bene così, sto meglio così. E il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere, ci hai abitato Natale e Pasque, in quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima ed è passato tanto tempo, ne hai buttata talmente tanta di anima che un giorno comincia a cercarti dentro lo specchio, perché non sai più chi sei diventata. Comunque sei andata, ora sei qui. E so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento. Dovunque fossi ci stavi stretta, nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine, che è stata crisi. E hai pianto. Dio, quanto piangete. Avete una sorgente d'acqua nello stomaco. Hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro, sul motorino. Così, improvvisamente, mi potevi trattenerlo. E quella notte, ti hai preso la macchina e hai guidato per ore perché l'aria buia ti asciugasse le guance? E poi hai scavato, hai parlato. Quanto parlate, ragazze? Lacrime e parole. Per capire, per tirare fuori una radice lunga sei metri che dia un senso al tuo dolore. Perché faccio così? Com'è che ripeto sempre lo stesso schema? Sono forse pazza? Se lo sono chieste tutte. E allora vai giù con la ruspa nella tua storia, due, quattro mani, e saltano fuori migliaia di tasselli. Un puzzle inestricabile. Ecco, è qui che inizia tutto. Non lo sapevi? È da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così, scomposta ai mille coriandoli, che ricomincerai. Perché? Perché una donna ricomincia comunque, ha dentro un istinto che la trascimerà sempre avanti. Ti servirà la strategia? Dovrai inventarti una nuova forma per la tua nuova te, perché ti è toccato di conoscerti di nuovo, di presentarti a te stessa. Non puoi più essere quella di prima, prima della ruspa. Non ti entusiasma? Ti avvincerà lentamente. Innamorarsi di nuovo di se stessi o farlo per la prima volta è come un diesel, parte piano. Bisogna insistere, ma quando va in corsa è un'avventura ricostruire se stesse la più grande. Non importa da dove cominci, se dalla casa, dal colore delle tende o dal taglio dei capelli. Io ho sempre adorato donne in rinascita. Per questo meraviglioso modo di gridare al mondo sono nuova, con una gonna a fiori o con un fresco ricciolo biondo. Perché tutti devono vedere e capire. Attenti, il cantiere è aperto. Stiamo lavorando per voi, ma soprattutto per noi stesse. Più delle albe, più del sole. Una donna in rinascita è la più grande meraviglia. Per chi la incontra è per se stessa. È la primavera a novembre, quando meno te l'aspetti.